E ora che farai? Non lo so. Andarmene. Dimenticare. Non lo so. Dimenticare la triptocaina, vuoi dire. È il metodo migliore che ho trovato. Solo che non è la soluzione. Per ora... Non cerco una soluzione. Voglio solo dimenticare. Mi sa che ti sei fatto coinvolgere più del dovuto, Norman. Perché dici così? Sto bene. Supererò anche questa. Prendiamocela con calma. Vediamo cosa succede alla fine. Se ci sarà una fine. La fine. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.